Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Al centro sportivo i giocatori Viola continuano a sostenere via via le visite mediche per poter riprendere l'attività sportiva In molti dopo i controlli si sono trattenuti per una seduta di allenamento individuale Intanto come comunicato dalla società Frank Ribery ha fatto rientro a Firenze Manuel Pasquale ha ricordato sul suo profilo Instagram il suo addio alla Fiorentina Sono passati ormai quattro anni dal giorno in cui è finita la mia avventura in Viola Giorno triste ma pieno di affetto Non potrò mai scordare le lacrime mie e di tutta la gente che mi ha accompagnato sino alla fine Per Fiorentina1.com Beatrice Canzedda Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola